Ehi, ciao! Non ti avevo visto lì. Benvenuti nella mia cucina. Sono le 13.30, sto aspettando il mio bro Diego che passerà qua tra un'oretta e andiamo a fare un po' di foto per il merch dei TLC. Ciao Diego, grandi, grandi! Billy non si fida di me e delle mie scelte. Faccio sempre brutte figure. Siamo qua con Simone e Giorgia. Ciao, ciao! A uno. Fai uno. No, poi facciamo due. Niente, siamo qua. Abbiamo trovato uno spot. Diego, per favore, devi direzionarsi la luce. Ma vai che tengo io la borsa adesso. Ma va, 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 riesco a far tutto. Non vedo la luce però non arriva. Ma guarda, gli arriva i piedi adesso. Ovviamente non può mancare mai la location parcheggio sottegraio. E non siamo sempre. Esatto. Yoghurt e kinder. Yeah. Damn bro. Damn bro. Ice cream. Allora raga, siamo qua di nuovo dove tutto ha cominciato. Ovvero qua nella macchina di Diego. 500, eh? Fiat 500. La macchina dei batteristi. Esatto. E ringraziamo i ragazzi qua dietro. Simone, bella prestazione. Simone, bella prestazione. Un cazzetto riparito. Queste sono un po' di foto dei TLC per vendere un po' di merci. Ci vediamo alla prossima. Yeah! Bella cosa. Solita inquadratura qua. Doviamo mettere all'interno di merci in questo car. Ma questo car è più piccolo che questo car. Cacciatore di tempeste. Cacciatore di tempi. Allora siamo arrivati qua al locale dopo una tempesta di grandina. È incredibile. La macchina di Kreen è uscita... E adesso c'è un po' di chilling. È quello per cui siamo pagati. Ovvero, spaccare. Arriviamo a una sconfitta umiliante a dir poco. Oggi giochiamo col cuore. Niente da perdere contro questi due. Vi distruggiamo. Una bella. Chi vince porta a casa tutto. Io sono contento già. Sono già. Sei a zero. Eravamo. No, si vede o si sente. Esatto. Bella raga. Quel mitico Elio. Sono io. È lui. È lui. È quel Elio. Cazzo. Abbiamo suonato. Ha spaccato i culi. Ci siamo divertiti. E ti dò anche un bacino. Silvia, non essere gelosa. No. Salta la voce. Siamo col grafico Elio Gomez. Gomez. Gomi. 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 La sconfitta. Il bravetti stasera. Decenti. Anche noi. Silence. E anche stasera ha vinto lo sport. Grazie mille raga che ci siete ospitati. Questo farà successo. Farà soldi e che dire. È uno forte. È uno che ci sa fare. È uno. Dio. Madonna. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Mi sembra falso. Nuovo episodio di Vita da Band. Episodio importante. Sto andando alle prove. Perché domani suoniamo con i May Day Paré dal Circolo Magnolia. Vediamo un po' come sono le prove il giorno prima del live. Ci vediamo lì. In magazzino. Ok. Ok.